Anche quest'anno come ogni anno lo staff del liceo del tecnico ha realizzato la giornata dell'arte ci ritroviamo qui dalle 12 e mezza fino alle 7 di stasera durante la giornata verranno realizzate varie attività come per esempio il color party e lo spima party e ci saranno vari tornei come per esempio quello di calcio e tennis e di basket siamo tutti riuniti come ogni anno per passare una bellissima giornata tutti insieme questo è il nostro logo fatto da uno studentessa del liceo classico Claudia Papa che abbiamo deciso di stampare e di mettere con noi le magliette tutti quanti hanno più o meno tutti hanno una maglietta per ricordarci questa bellissima giornata e dietro abbiamo i vari sponsor e qui abbiamo The Queen Love Letter che sono delle lettere d'amore che tutti sono liberi di poter prendere e di sentirsi meglio speriamo che possano rubare un sorriso un po' a tutti ringraziamo le autorità e gli sponsor che ci hanno sostenuto e che ci hanno sostenuto e che ci hanno sostenuto e che ci hanno sostenuto Grazie a tutti.